Weekend nero a Torre del Greco con ancora quattro cittadini morti. Da sabato il centro operativo comunale ha registrato 45 positivi al covid a fronte ai 35 nuove guarigioni. Un bilancio che si aggrava di poco con 1.228 torrisi attualmente contagiati, di cui 68 ricoverati in ospedale. Tuttavia il virus continua a mettere vittime nella città del Corallo. Venerdì è stato registrato il decesso di due cittadini di 75 e 76 anni, sabato di una concittadina ai 60 anni e domenica di un avvocato ai 63 anni. Nuove vittime anche a Torre Annunziata. Sono 32 i nuovi casi di contagio a covid-19 negli ultime 48 ore, a fronte di 398 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta all'8,04%. Al contempo si registrano anche 78 guarigioni e due decessi di un uomo e una donna di 95-80 anni. Verificatisi rispettivamente il 13 e il 9 marzo. Sono 550 i cittadini di Torre Annunziata attualmente positivi. Dati più riassicuranti invece per portici. La percentuale dei contagi dei nuovi positivi dall'8 marzo al 13 marzo si attesta al 9,48%, ben al di sotto della media regionale. Su 1.233 tamponi effettuati i positivi risultano essere 117. Tuttavia il sindaco Cuomo ammette che fin troppe persone non stanno rispettando i nuovi divieti imposti. Stesso problema anche a Castellammare, dove i vigili urbani stanno adottando il criterio di tolleranza zero, multando chiunque si trovi ad infrangere le regole anticontagio. Nel frattempo solo nel weekend sono 148 i cittadini di Castellammare risultati positivi al coronavirus, a fronte però di 97 nuovi guariti. L'indice di contagio è intorno al 17%, un trend in discesa rispetto ai giorni passati, ma ancora altissimo anche rispetto alla media degli altri comuni. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.